Buongiorno e bentrovati. Buongiorno e bentrovati dalla redazione di TV6, martedì 11 luglio 2017, come sempre il nostro buongiorno vi arriva con la rassegna stampa, sfogliando le pagine dei quotidiani locali e le prime pagine delle testate nazionali per essere aggiornati su tutto quanto sta accadendo, in particolare nella nostra regione, ma non solo. E allora iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani locali, andando a vedere la pagina aquilana del centro, ecco qui protesta alla Marelli. Troppo caldo, a Sulmona l'azienda corre ai ripari e sventa lo sciopero, promettendo ventilatori e tende. E poi nella fotonotizia, il centro è comune alle quattro edizioni del centro, tre anni di governo, ecco la pagella di D'Alfonso, dall'energia al turismo, cosa è stato realizzato del programma. Poi di spalla i richiami di cronaca, Gran Sasso, al via I, lavori alla seggiovia Fontari. E poi ad Avezzano la Cosimatti sarà presidente del consiglio. L'Aquila, nonno orco, sei anni anche in appello. Poi due richiami nazionali, Palermo staccata la testa del busto di Falcone, a Napoli chiusa in auto, muore bimba di tre anni. In basso all'Aquila, da giovedì all'11 agosto, un mese con oltre 500 artisti, presentato il cartellone di cantieri dell'immaginario. E poi sempre all'Aquila, prodotto alla Dompe, il collirio Montalcini. L'edizione ora di Chieti, muore in mare stroncata dal caldo. A Casalbordino, malore per una 74enne sotto gli occhi della sorella, inutili i soccorsi. Di spalla, a Ortona, tiri in fiamme sull'A14 dopo l'urto Cold Guardrail. A vasto, sgominata la gang dei furti in autostrada. E poi ad Atessa, Honeywell, sciopero contro la chiusura. In basso, a Chieti, ticket unico ma si paga doppio. L'abbonamento estivo di Tua non vale per la panoramica. Palacanestro, la leggenda di Capone, è campione a 52 anni. Ora l'edizione terramana del centro. Ospedali, 170 contratti per l'estate. Arrivano i rinforzi per smaltire le ferie, ma le assunzioni non sono sufficienti. A Sant'Egidio, bambino di 6 anni colpito da meningite. Poi sull'A14, Contromano, ubriaco per 40 chilometri. A Roseto, molesta la vicina condannato per stalking. E poi in basso, Miss e Mister Atleta, ecco i più belli dell'Interamnia. A un greco e un'Ucraina, il tradizionale concorso di bellezza. L'edizione pescarese del centro, ecco l'apertura, notte dell'Adriatico, sfilata di stelle. Il 22 luglio a Pescara, 80 spettacoli sulla riviera tra gli ospiti Biondi, Barbarossa e Covatta. E poi i richiami di cronaca, paura anche a San Valentino, Caramanico assediata da un rogo di 60 ettari. Le conseguenze del caldo a foso di questi giorni. Sulla A14, ubriaco, guida Contromano per 40 chilometri. A Pescara, bici rimosse sulla riviera, lira dei ciclisti. E poi in basso, il Pescara da ieri al lavoro. Zeman, proveremo a divertirci, Biancazzurri in ritiro a Rivi Sondoli. Il boemo, rosa da sfoltire. E adesso vediamo il messaggero Abruzzo con questa apertura, che è stata un po' l'altra faccia della giornata di ieri per quanto riguarda il Pescara, che si è radunato, è iniziato il lavoro. Ma c'è quest'altra notizia con cui il messaggero apre. Pescara arriva l'ispettore del Tribunale, ricorso dell'ex amministratore delegato Jan Nascoli. Lo speciale collegio per le imprese nomina un commissario per verificare i bilanci 2015-2016. Nel mirino i finanziamenti e le attività giovanili, la plusvalenza sulla vendita di caprari, crediti inesigibili e aspetti fiscali. E poi sotto la testata Pescara, ubriaco, guida a contromano per 40 chilometri in autostrada. Gioco d'azzardo, mogli 007 alleate con la finanza per smascherare i ludopatici. Estate al massimo, notte bianca, 80 eventi. La star sarà Mario Biondi, svelati i nomi degli ospiti del 22 luglio. Annunciati anche Elodie, Luca Barbarossa, Selvaggia Lucarelli, Giobbe Covatta e giovani jazzisti. Poi ancora di spalla il fuoriclasse degli scacchi che si ispira a Berzot. Niccolò Orfini, di 15 anni e già campione italiano under 16 di scacchi. E poi la fotonotizia, derivata in questo caso alla parte più sportiva. Per quanto riguarda il Pescara, Zeman, il nostro posto tra le prime 5. Biancazzurra e Rivi Sondoli all'oscuro dell'indagine. In taglio medio, roghi in montagna, minacciati i boschi a ridosso del parco. Il fronte del fuoco avanza in marsica, Casal Bordino, anziana stroncata dall'AFA. In basso, Pescara, donna investita, caccia al pirata. E adesso andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Muore precipitando dal terzo piano, incidente o suicidio per una 60 romene di roseto volata giù dal balcone. Inutile la corsa in ospedale. Sotto la testata, all'argo di Giulianova, soccorso in elicottero sulla nave da crociera. Sempre a Giulianova, in veste 16enne, in bici e scappa. Denunciato, di spalla, politica, Giuliese, Di Michele, di alternativa popolare, veleggia verso l'ente Porto. Roseto degli Abruzzi, strisce blu, contravvenzioni automatizzate. Poi le parole di Gianluca Grimi, turismo, il futuro è un plein air. E poi ancora la fotonotizia, anche in questo caso trova rilievo questo fatto avvenuto domenica. 40 chilometri contro mano, 36enne, ubriaco, bloccato dalla stradale in A14. E poi ancora in fiamme la bassa valle del Vomano, vigili del fuoco in azione a Castelnuovo, Notaresco e Cellino. Cultura, intervista immaginaria a Ennio Flaiano, 70 anni dopo la vittoria del premio strega per lo sport, calciomercato, il terramo vicino a De Grazia. E poi ancora questo fatto di cronaca dal Badriati che lancia il cane della fidanzata dal balcone. Ci fermiamo con le prime pagine delle testate locali. Adesso andiamo a sfogliare le prime pagine delle testate nazionali. Vediamo i principali titoli partendo dal Corriere della Sera. Deficit, l'Europa gela Renzi. I paesi non decidono da soli. L'ex premier c'è un pregiudizio anti-italiano. Conti pubblici, scontro sulla revisione delle regole. Padoan è un tema per il futuro. Poi ancora la fotonotizia al centro. E se Charlie fosse tuo figlio, i genitori ricusano il giudice. La drammatica udienza alla Corte di Giustizia a Londra. Giovedì il verdetto. E poi sempre in taglio medio, Bossi condannato a due anni e tre mesi. Processo politico. Avanti ancora con l'editoriale firmato da Alberto Alessina e Francesco Giavazzi. Uno scatto per battere le lobby. E poi ancora la prima pagina della stampa. Il titolo d'apertura. Renzi e le tasse. Gentiloni è come elite con l'Unione Europea. Il leader dell'Eurogruppo fuori dalle regole. Un deficit al 2,9%. L'ex premier rilancia l'idea del veto italiano al fiscal compact. Anche Bersani non può non essere d'accordo. Poi la polemica. I grillini liberticida la legge sulla propaganda fascista. Il PD studia studiate la storia. Salvini no al processo alle idee. Ma nel Movimento 5 Stelle si affacciano divisioni. Troppo a destra. E poi l'oltraggio alla memoria di Falcone. Con l'abbattimento sostanzialmente del busto allo zen. E poi ancora la fotonotizia negli Stati Uniti. Giornali contro Google e Facebook. Petizioni al congresso di 2000 quotidiani. Concorrenza sleale. In taglio medio. Travolti sulla moto. La procura valuta l'omicidio volontario. Trascinati per 50 metri dal furgone a terra. Non ci sono segni di frenata. Il caso dei ragazzi investiti in Val Susa. E adesso la prima pagina di Repubblica. Deficit. L'Europa frena Renzi. L'Italia deve rispettare le regole. Il segretario del PD parla di pregiudizio. Paduan modifiche nella prossima legislatura. E poi ancora Movimento 5 Stelle e Lega contro la legge antifascista. E liberticida. E poi ancora il pugno di Pechino. Niente cure estere per Liu Xiaobo. Il dissidente. E poi la fotonotizia al centro. Quella mafiosità che non si arrende. A Palermo allo zen spezzato un busto di Falcone. E poi bruciata una foto. In Basso inseguiti per uccidere. È stato un omicidio. Quanto accaduto in Val Susa. Il fatto quotidiano. Questa è l'apertura. Fiscal Compact. L'UE e Paduan scaricano il Renzi Double Face. L'ex premier contesta le regole europee che il PD ha votato per l'Italia. Ecco perché c'è scritto Volta Gabbana. E poi la foto. Berlusconi prepara l'eterno ritorno. Notte elegante in discoteca. Altro che Dudù e Agnellini. Poi ancora taglio medio. Università truccata. Le pagelle dei premi da 2 miliardi di euro. Il rapporto su Atenei e ricerca. Manipolato più di 100 volte dopo la pubblicazione. E poi ANM e CSM. I nomi della spartizione di procure e tribunali. Fra le solite correnti. Perché Davigo se ne va. E poi in Sicilia parla cancellieri via quei burocrati da medioevo. Noi 5 Stelle pronti al governo. La prima pagina del giornale. Panico sulle spiagge. Il PD va alla guerra. Caccia i bagnini fascisti. La sinistra si accanisce su uno stabilimento nostalgico. In aula scontro su una legge più dura per l'apologia. E poi il lunedì nero di Renzi. Europa e ministri lo zittiscono su tutto. La fotonotizia al centro. Nei guai con il figlio Renzo. Quello che non dice la condanna di Bossi. E poi Emergency. Strada e la figlia litigano per i soldi dell'ONG. E adesso siamo alla prima pagina di Libero. Vogliono vietare le vecchie idee. Peggio dei fascisti. Solo gli antifascisti. Quelli del PD insistono. Per seguire chi fa un saluto romano. O possiede un busto del duce. La legge romperà solo le palle a quattro nostalgici. Noi leggiamo testualmente. Insomma il linguaggio è sempre molto colorito. Quello di Libero. Che scemenza. Un gadget. Non genera crimini. E poi ancora. La fotonotizia. Bossi condannato. La Lega l'aveva già scartato. Due anni e tre mesi al senatore. Usò per sé i soldi del partito. E poi ancora. In taglio medio. Il governo se la fa sotto. Niente. Iussoli. Slitta a settembre il voto sulla cittadinanza. Facile agli stranieri. La verità. E gli italiani restino a spasso. Nuovi posti di lavoro. Solo per immigrati. Il prefetto di Torino. Apre i permessi di soggiorno per i richiedenti asilo. Assunti in fabbrica. Politici e imprenditori gioiscono. Intanto tagliano i salari in una zona con disoccupazione giovanile al 40%. E poi Bossi condannato insieme al figlio. E il tesoriere Belsito. Due anni e tre mesi. Il PD fa una cosa di sinistra. Inventa i fascisti. Per giustificare la nuova linea securitaria. Dai Demo. Una legge contro la propaganda del ventennio. Siamo al messaggero. Italiano e Unione Europea. Scontro sul deficit. L'Eurogruppo boccia la proposta di rottamare il fiscal compact. Fuori dalle regole. Renzi. Pregiudizio contro di noi. Padoan frena. Ci penserà la prossima legislatura. E poi ancora la fotonotizia al centro. Falcone. L'ultimo oltraggio. Busto decapitato allo Zen. Bruciata anche una sua immagine. L'editoriale di Giulio Sapelli. Recedere si può. Quella tagliola ha strancolato l'economia. Poi ancora in taglio medio. Raggi. Non ne scelsi io. Il fratello di Marra. Il sindaco IPM. L'assessore Meloni. Fece pressing per la nomina. di Renato. E poi ancora in basso. La ricerca Istat. Più povera e anziana. Così la casalinga. Si sta estinguendo. Il tempo. Questa l'apertura. Sfascisti. Italia divisa sulla legge Fiano. Oppure Renzi e i grillini litigano sul Duce. Predappio nel caos. Boldrini vuole le ruspe sulle opere del fascismo. E poi da oggi chi sbaglia paga. Cosa rischia? Il furbetto del cartellino. Avanti ancora con l'avvenire. Scontro Renzi-Unione Europea sul rigore dei conti. Stop al fiscal compact per crescere. Primi no. Avanti ancora con il secolo XIX. Tasse gelo UE su Renzi. Ma sul deficit al 2,9%. Il segretario del PD rilancia. Gentiloni è d'accordo. E poi Banco Mattelega. Condannati i bossi. E bel sito. Questo si legge sulla fotonotizia. Il mattino sanità. De Luca commissario. Il governo sblocca il braccio di ferro con Lorenzin. Il governatore sicuro di riuscirci. La nomina in consiglio dei ministri. L'ordine dei medici. Stallo superato. Ora si lavori per la campagna. E poi anche sul mattino trova spazio la notizia della condanna di Bossi. Spese con i soldi della Lega. Due anni a Bossi. La gazzetta del Mezzogiorno. Renzi scatenato contro l'Unione Europea. E Palazzo Chigi insiste. I salvati in mare non vengano soltanto in Italia. L'ambasciatore Eritreo alla gazzetta. Da noi fuggono solo per la povertà. Adesso possiamo tornare sui quotidiani locali. Possiamo farlo attraverso le pagine del centro. che parlava appunto di una sorta di pagella del governo locale di Luciano D'Alfonso. E allora vediamo la due pagine. Pagina 2 e pagina 3. Eccola qui. Tre anni di governo giunta regionale sotto esame. Ecco la pagella di D'Alfonso. Sanità, infrastrutture, lavoro, politica industriale. Le cose fatte, quelle iniziate e poi abbandonate. E le promesse rimaste sulla carta dal 2014 a oggi. Poi qui al centro delle due pagine una serie di temi che vengono trattati. Qui una foto della squadra di governo di D'Alfonso. E poi in basso finalmente parte la Fondovalle Sangro. Ma sui porti della regione ha fatto acqua. Spazio tra le infrastrutture e la mobilità ciclopedonale. Definita l'anello debole dell'intero territorio. E poi Elite Febbo Paolucci sui servizi della sanità. Andiamo indietro. Stiamo migliorando. Fa discutere il rapporto Crea che pone l'Abruzzo tra le regioni in situazione critica. I medici. Bene l'uscita dal commissariamento. Ora bisogna investire su strutture e personale. Poi lavoro, buona idea, la carta di Pescara. Non ci siamo su ammortizzatori e credito. E poi come ospiti sgraditi, terremoto e maltempo che hanno purtroppo falcidiato la nostra regione. E poi passiamo alle pagine di Pescara. Le pagine della cronaca di Pescara. Ecco qui la notte dell'Adriatico. Dal tramonto all'alba festa con 80 spettacoli. Presentata la terza edizione della manifestazione in programma il 22 luglio. Il sindaco concerti, cabaret e sport. La Rivera sarà una piazza di 9 chilometri. Poi in basso, spettacoli in vernacolo ai gesuiti. Prosegue in via del santuario il calendario di eventi dedicato alla parrocchia. Ma tornando appunto alla notte dell'Adriatico. Ecco qui ospiti e location. In piazza Salotta c'è Biondi, Barbarossa alla Madonnina. Palchi da nord al sud con Vincenzo Rivieri in piazza Le Laudi. Il rap di Tedua alla Rotonda. Elena e il DJ Spiller, Alex Kofa, ma anche Elodie e Malcom. Qui vediamo alcune delle foto dei protagonisti della notte bianca. Del prossimo 22 luglio al teatro d'annunzio con Lucarelli, Covatta e l'orchestra jazz dei conservatori italiani. Andiamo a vedere la presentazione avvenuta ieri in comune della notte bianca. attraverso le parole dell'assessore comune Alecuzzi. Un programma importante per quella che è la terza edizione della notte bianca dell'Adriatico. Un appuntamento che in tre anni è riuscito a diventare protagonista degli appuntamenti della riviera adriatica. Avremo un programma sicuramente significativo partendo da questa gigantesca piazza pedonale. 10 km di riviera pedonalizzata. Oltre 30 aree e concerti, la partecipazione di due radio importanti, Radio Monte Carlo e RDS, con degli artisti di spessore di livello nazionale e internazionale, partendo da Mario Biondi, Elodie, Luca Barbarossa, Spiller, T2E per i più giovani. Insomma, un programma davvero variegato per una notte che si pone come notte di rilancio, non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista della creazione della destinazione turistica. Una giornata importante, quella che vivrà Pescara, soprattutto un'estate di grandi eventi. Siete riusciti a mettere in calendario tante manifestazioni importanti? Sì, noi siamo partiti dal 1 maggio con il concerto degli After Hours, per passare all'inaugurazione del Ponte con i Sud Sound System. Adesso questa notte è straordinaria. Avremo inoltre anche diversi istituti culturali che parteciperanno, come il Pescara Jazz, il Festival delle Latturature Adriatiche, con due ospiti importanti come Giobbe Covatta e Selvaggia Lucarelli. Avremo la comicità di Vincenzo Olivieri. Insomma, è davvero un'estate straordinaria. Dopo la Notte Bianca annunceremo anche un grande concerto in occasione di Pescara Open Day il 5 agosto. Poi ci sarà la notte dello shopping il 12 agosto. Il 14, il 15, l'Adriatic Dance Festival, un festival per i giovanissimi di musica elettronica. È davvero un programma importante che sta riscuotendo tanto successo, ma soprattutto che, come dicevo prima, riattiva tutta una serie di funzioni economiche vitali per la nostra città. E adesso la cronaca sempre sul centro. Contromano per 40 km sull'A14. L'automobilista era ubriaco. Lungo inseguimento notturno di una Mercedes che correva sulla carreggiata sud dell'autostrada, la polizia stradale è riuscita a fermare il veicolo a Pescara Nord mettendo l'auto di traverso. In basso appello al prefetto, incidenti e polemica sui rilievi. I sindacati di polizia contestano l'ipotesi di far intervenire la volante. Poi un nuovo sistema per i tumori, successo dell'unità di chirurgia dell'ospedale, intervento su un paziente pescarese guarito in pochi giorni. E poi ancora bici rimosse dai vigili sui social. La città si divide dopo le rimozioni di domenica. Lungo la riviera impazza la polemica su Facebook. L'aura di russo della FIAB. I ciclisti aumentano ma gli stagli non sono sufficienti. E poi riunione alla regione. Il progetto delle aree di risulta riceve il primo sì di D'Alfonso. In taglio medio il PD cerca un posto in giunta per Teodoro. Rinviata alla riunione del partito per parlare della crisi sinistra italiana avverte. Di Iacovo non si tocca. In basso pronte le prime case per gli sfollati. Inserata l'assegnazione di alcune abitazioni provvisorie agli inquilini di Rancitelli. E poi ancora, restando sulle pagine della cronaca, sempre a Pescara, pochi bus al caldo e stretti come sardine. La rabbia di lavoratori e studenti organizzano le linee per quelli della Movida ma da mezzanotte ci lasciano a piedi. Andiamo avanti con la pagina di Francavilla. Palazzo Sirena. Ultima decisione entro dieci giorni. Entro il 20 luglio la soprintendenza farà sapere se sarà a posto il vincolo all'ala storica dell'edificio. In caso contrario demolizione in autunno. In basso turismo Francavilla pensa verde. Il comune tra le amministrazioni è inserita in un progetto europeo con la Croazia. E siamo alle pagine di Montesilvano. Lotta alla prostituzione. Il progetto contro la tratta in sei mesi contattate 15 ragazze. Sono soprattutto nigeriane e giovanissime le lucciole che hanno aperto un dialogo con i volontari per avere assistenza e un aiuto a lasciare la strada. E poi targhe storiche. Ecco i premiati sono 37 i negozianti ed esercenti cittadini che ad agosto riceveranno gli attestati. In basso notti magiche tra streghe e mazzamaril. Città Sant'Angelo. Due fine settimana dedicate alle antiche credenze popolari nel rione Casale. Avanti ancora giornata di fuoco. Brucia caramanico. 60 ettari in fumo. Dalla frazione di Santo Maso le fiamme si sono propagate. Fino a San Valentino lambendo le case. Canadeir da Cagliari. Ecco alcune delle foto del vasto rogo nel Pescarese. Insomma nella zona tra caramanico e San Valentino e Abruzzo Citeriore. Poi in basso investi in auto un'anziana e fugge. L'incidente sabato sera a Loreto. La 79enne ricoverata in prognosi riservata. Pagina di Chieti. Tragedia a Casalbordino. Muore in acqua a causa del forte caldo. Donna di 74 anni accusa un malore al mare. Sotto gli occhi della sorella stava trascorrendo le vacanze a Pollutri. Il sindaco Marinucci. La notizia ha rattristato tutta la nostra comunità. Purtroppo non è la prima volta che il caldo troppo forte miete delle vittime. Poi ad Atessa la Honeywell verso la chiusura. La multinazionale investe in Francia. Sciopero oggi e domani. In basso sempre per la cronaca. Tir sbanda. Urta il guardrail. Prende fuoco. Incidente sull'A14. A Ortone illeso il conducente. Chiusa la corsia nord per alcune ore. Rallentamenti verso sud. Pagine di L'Aquila e Teramo. Sul Mona. Sciopero sventato. Marelli proteste per il caldo in fabbrica. L'azienda corre a ripari. In settimana saranno montate quattro pale di ventilazione e tende per oscurare le finestre. Poi in taglio medio. Anche in appello. Sei anni al nonno orco. Confermato l'esito di una vicenda scabrosa. Avvenuta tra le mura domestiche. Poi in basso. La Dompe. Produrrà il collirio Montalcini. Nello stabilimento Aquilano. Sarà realizzato il farmaco basato sugli studi del premio Nobel. E ora la pagina Teramana. Ospedali. Ecco i rinforzi. Asle. 170 contratti per l'estate. Assunzioni a tempo per far fruire le ferie al personale. Ma già si sa che non basterà. Sono 107 gli infermieri di cui la direzione strategica si vuole dotare per questi mesi. E forse l'azienda sanitaria non riuscirà nemmeno a trovarli tutti. Fra le altre professionalità ci sono tecnici di radiologia, di laboratorio, della prevenzione, ostetriche, autisti di ambulanza, operatori sociosanitari ed un amministrativo. In basso a Sant'Egidio la vibrata meningite contagiato bimbo di 6 anni. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso di Sant'Omero e poi è trasferito ad Ancona. Noi per il momento ci fermiamo con la prima parte di mattino 6. Diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi alla pubblicità e poi ci ritorniamo con la seconda parte di mattino 6. per sfogliare le pagine del messaggero Abruzzo e della città. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Parliamo di politica con questo titolo. Regione 20 di crisi, oggi il ritorno in aula dal referendum al capo alle comunali si va alla resa dei conti nell'emiciclo. Nuove tensioni in maggioranza dopo l'intervento del presidente di Pangrata. Segnali confusi dal partito di D'Alfonso, convocate e disdette in poche ore la direzione del Partito Democratico. Poi crea febbo in pressing sulla sanità. Siamo ancora tra i peggiori in Italia. Il responsabile della commissione vigilanza, ospedali ingolfati o chiusi senza alternative. Poi in basso l'UNESCO, le faggette del Parco Patrimonio dell'Umanità. indicati 5 nuclei boschivi in cui vivono orsi, lupi, cervi, caprioli e il rarissimo gatto selvatico. E poi la pagina di Pescara. Un ispettore per i conti del Pescara. Il Tribunale delle Imprese ha nominato un commissario per la verifica di due bilanci della società Bianca Azzurra. La decisione è stata assunta a seguito del ricorso presentato dagli annascoli, ex amministratore delegato societario. Sono diversi punti da chiarire. Nell'indagine anche un finanziamento di 5 milioni dalla Fondazione Pescara Abruzzo per il settore giovanile. In carico affidato al commercialista Massimo Mancinelli, nessuna ricaduta sull'attività dei Bianca Azzurri. Poi in basso, ubriaco guida contromano sulla A14, bloccato dalla polizia. L'uomo di Bellante ha percorso 40 km da Ortona fino a Pescara Nord, fermato dopo un inseguimento. Ludopatici smascherati dalle mogli ad aiutare la Guardia di Finanza nella lotta ai giochi illegali sono le tante denunce delle donne nei confronti dei mariti. Monitoraggi continui, antiriciclaggio sul territorio e controlli serrati dei militari su agenzie e sale slot. E poi ancora un giro di vita e sanzioni dei 50 euro sulla riviera lasciano la bicicletta ai vigili per non pagare la multa. Linea dura del comandante Carlo Maggitti nei confronti dei ciclisti sul marciapiede. Avanti ancora Mario Biondi, star della Notte Bianca. Svelati i nomi degli ospiti del 22 luglio. In arrivo anche Luga Barbarossa, Selvaggia Lucarelli e Giobbe Covatta. L'assessore Cuzzi, un appuntamento di portata regionale. L'invito a tenere i negozi aperti. Servizio navetta con i parcheggi. Il programma anche Nightfly. Elodie Tedua, Vincenzo Livieri e i giovani talenti del jazz. Tra gli 80 spettacoli anche Giostra Cavalleresca di Sulmona e Sbandieratori di Popoli. In basso, Premi Flaniano, Tiboni investe sulle scuole. La Presidente tira un bilancio positivo della serata. Sponsor pronti a condividere il progetto. Avanti ancora, pagina dell'Aquila. Fonta ha riconsegnati i lavori. Scatta la corsa contro il tempo. Previsti sei mesi per la nuova seggiovia. Ma il sindaco Biondi chiede di accelerare. Il primo cittadino si appella alla ditta. Dobbiamo salvare un patrimonio. Pende il contenzioso per la direzione delle opere. Giuliani sul ricorso. Siamo tranquilli. È tutto in regola. Anche Cialente ha aiutato per la concessione del via libera. a costruire da parte del comune. Poi ancora, per la politica. Gerosolimo, detta ancora legge. È caruso l'uomo per la provincia. In basso, a cronaca, nonno orco. Confermata la pena a sei anni. Le violenze sessuali avrebbero perseguitato la bambina già quando aveva l'età di sette anni. Poi ancora, in pensione, il giudice Romolo Como. Il simbolo del Palazzo di Giustizia che ha visto nascere è all'interno del quale ha svolto tutta la sua lunga carriera. Si è occupato di tutti i grandi processi fino all'ultimo come avvocato generale sulla commissione Grandi Rischi. Dal prossimo 25 luglio la prestigiosa carica ricoperta da Alberto Sgambati. Con il magistrato Galantuomo si chiude un'epoca. Avanti ancora, sempre all'Aquila, Cantieri dell'Immaginario, oltre 50 iniziative. Presentato il cartellone tra le 21 location c'è anche la Madonna Dappari. A Lucoli la cooperativa attacca l'ex sindaco. Replica il vetriolo alle parole di Gianluca Marrocchi sul caso di missioni. Bruciano le montagne, qui siamo in Marsica, bruciano le montagne a ridosso del parco. Roghi a Lucco e Trasacco. Le fiamme si orientano verso nord, a ridosso dei preziosi boschi di Colle Longo. Vigili del fuoco in azione. Subito chiamati i mezzi aerei. Anche i volontari in azione. Fiamme visibili dall'autostrada. E poi in basso, sul Mona, Pallozzi via libera dalla Lega Calcio. Ma ora per lo stadio si apre la partita più difficile. Sinibaldi sollecita la collaborazione tra le società. Avanti ancora con le pagine di Chieti. Ateneo contro del vecchio. Firme e annunci di sciopero. Sindacati a favore del rettore Caputi. No al ritorno del direttore generale. Il responsabile dell'annunzio è accettare il DG. Sarebbe un abuso. Il dirigente riammesso della Cassazione non si è presentato come invece aveva annunciato venerdì scorso. Intanto scoppia la grana fondazione rimasta senza presidente dopo la promozione di Vandelli. Poi ancora Marrucino in rosso. 250 mila euro dalla regione. Avanti ancora. Di spalla leggiamo. A Sili Nido non c'è posto per un bimbo su due. Tutto questo a Chieti. E qui ora siamo in provincia di Chieti. Malore in acqua. In vista ci sono 3.000 licenziamenti. Amore stroncata dal caldo. La tragedia ieri pomeriggio sul litorale di Casalbordino. La vittima aveva 74 anni ed era originaria di Pollutri. Un turista tedesco soccorso nelle acque dell'Orfento finisce all'ospedale di Chieti a Scerni Pasticcere ucciso da infarto. E poi ladri in azione in due scuole medie rubati i computer, aule danneggiate per la Umberto I e il terzo furto in tre anni. Visitata anche la D'Annunzio presidi che sono disperati. Siamo a Vasto. Il sindaco Menna dichiara guerra a Nomadi e a Cattoni. Pagine di Teramo. La ricostruzione non parte. sfollati pronti alla protesta. L'assessore di Sabatino. Il comune aprirà l'ufficio sisma indipendente dall'USR. Pronto il bando per quattro assunzioni. Ma le nuove ordinanze sono drammatiche. Il capogruppo PD Gian Guido D'Alberto punta l'indice sulla scuola. Carlo Febbo nel degrado. Sin dal 2009. I titolari dei negozi hanno formato un comitato unico dopo i ritardi nel centro storico. Poi di spalla aumentano gli incendi e nasce una task force. Incendi che sono alle porte della città di Teramo. Poi sulla costa, parliamo in questo caso di Enteporto a Giulianova, verticelli. Così cambierà il nostro porto. Prevista una qualificata serie di interventi nello scalo dalla tettoia per riparare le reti ai bagni mai realizzati. Tutta l'illuminazione sarà rifatta a LED. Saranno applicate nuove tecnologie per la pulizia dell'acqua all'interno dei moli. Poi il sogno del manager poter ottenere la bandiera blu degli approdi come a Pescara. E poi sempre a Giulianova appendicite salvato in mare da un elicottero. In Val Vibrata si sbloccano i fondi per Salinello e Ponte. La regione è intervenuta con una serie di finanziamenti sul territorio dopo i disagi. E poi ad Alba Adriatica eventi sportivi infiammano l'estate. Beach tennis e poi i raduni. Tutti in diretta televisiva. Possiamo adesso lasciare il messaggero Abruzzo. Andiamo a sfogliare le pagine della città. Dopodiché vedremo anche quelle dello sport. Vedremo anche l'intervista al presidente del Pescara Sebastiani in occasione del giorno del ritiro dei Biancazzurri. Ma ora appunto siamo sulle pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Cronaca, ubriaco, fa 40 chilometri contro mano. 36 anni inseguito dalla polizia stradale. Panico sull'autostrada 14 tra Ortona e Pescara Nord. Il 36 anni è stato fermato e denunciato. La polizia gli ha riterato la patente. La sua Mercedes classe A è stata sequestrata. E poi folla ai funerali del poliziotto Guido Pompili, chiesa Stracolma in piazza Garibaldi per l'addio al 48enne stroncato da un infarto al pronto soccorso. E poi un altro lutto, addio a Berardo Marcone dello storico panificio ieri in piazza Garibaldi. Funerali dell'imprenditore ed ex calciatore Teramano. Avanti ancora, risparmio. Due Teramani su tre scelgono il libretto postale. 200 mila i depositi attivi. 30 mila negli ultimi cinque anni, con un aumento del 18%. E la provincia con l'incremento maggiore in Abruzzo. Ai librettisti Teramani, altri due primati regionali. Numero delle carte libretto attivate e numero di pensionati che hanno scelto l'accredito. Il 72%. Poi la quinta regione italiana nel rapporto tra abitanti e numero di libretti postali aperti. Ovviamente la regione è quella dell'Abruzzo. In Abruzzo sono circa 192 mila coloro che scelgono le poste italiane per ritirare la pensione. Le notizie dalla provincia. C'è in fiamme la vallata del Basso Vomano. 10 ettari di boscaglia e sterpagli a fuoco nei pressi della zona industriale di Notalesco. Castellalto e Cellino tra i residenti lavoratori per le fiamme che si sono sviluppate nei pressi delle aziende e delle abitazioni. C'è chiaramente della preoccupazione. Turismo, il futuro è en plein air ma nessuno lo sa. Le parole di Gianluca Grimi Teramo unica per esclusività e appeal delle strutture. Il comparto esprime il 50% della capacità ricettiva. Ancora le parole di Gianluca Grimi di Assuturismo Confesercenti da Martinsicuro a Silvi ci sono oltre 50 camping villaggi che contano 25 mila posti letto. Avanti ancora sempre la cronaca dalla provincia di Teramo lancia dal balcone il cane della fidanzata Raptus di un 42enne al culmine di una discussione per screzzi condominali. L'uomo è stato denunciato per uccisione di animale e ora rischia dai 4 mesi ai 2 anni. E poi in basso Martinsicuro tempi lunghi per una giunta già decisa dalle preferenze e Camaglioni critico con il sindaco Bagnoni troppi 10 giorni durante la stagione. Soccorso in elicottero sulla nave da crociera si sente male per una sospetta appendicite a largo di Giulianova la guardia costiera interviene sulla Aida Blu. Poi ancora avanti Matteo Di Michele veleggia verso l'ente Porto sponsorizzato da Ignazio e sostenuto da D'Alfonso per il CDA dopo l'addio di Gianluigi Core. La lettura politica l'appoggio al nome proposto da Alternativa Popolare è un altro esempio della convergenza all'emiciclo. E poi in basso Mastromauro detta di nuovo i tempi per i lavori nelle scuole giugliesi prima dell'11 settembre per The Amicis gennaio 2018 per Colle Ranesco soluzioni alternative per la Pagliaccetti e poi il fotoracconto grande festa d'inizio estate al Lido Paradiso cena, DJ set, musica dal vivo e grande spettacolo per l'apertura della stagione del Lido Giuliese. Torniamo alla cronaca e siamo a Roseto degli Abruzzi muore precipitando dal terzo piano tragedia a Roseto inutile la corsa disperata al pronto soccorso di Giulianova per una 69enne. Le ipotesi la donna era affetta da Alzheimer e non è chiaro se sia stato un incidente o un gesto volontario. Poi in taglio medio sempre a Roseto stagione turistica gestita nel peggiore e dei modi Fratelli d'Italia N fa il bilancio delle cose che non vanno dal Lido la lucciola ancora chiuso al wifi spento. Strisce blu le multe saranno automatiche ausiliari dotati di auto con telecamere e tablet per riconoscere dalla targa chi non è in regola con il ticket. Tutto questo a Roseto è sempre a Roseto muore a 73 anni l'ex sindaco Domenico Cappucci. siamo alla pagina della cultura tutta la prepotenza dell'asse attrezzato tempo di uccidere non solo intervista immaginaria a Egno Flaiano a 70 anni dalla sua vittoria al premio strega nell'articolo di Simone Gambacorta come se la passa lo scrittore cosa direbbe sull'andazzo dell'Italia abbiamo provato a chiederglielo in questa conversazione impossibile fatta di risposte che non ha mai dato e di domande più o meno sensate. Andiamo alle pagine dello sport ecco qui aspettando chi nel lato Teramo vicino a De Grazia attesa nelle prossime ore la risposta dell'attaccante seguito anche dal Padova sfuma Candido che va ai Veneti dopo essersi svincolato dal Como e duello aperto sul mercato per l'attaccante il Teramo è ottimista il centrocampista nella scorsa stagione ha giocato in Lega Pro con i marchigiani con la maceratesa di proprietà dell'Ascoli ma potrebbe risolvere il contratto con i bianconeri e firmare per il Diavolo dunque Teramo vicino a De Grazia mentre c'è il testa a testa con il Padova per l'attaccante Chinellato in basso di Paolo Antonio va in via la Ternana è ufficiale l'arrivo di Ventola nei prossimi giorni potrebbero aggregarsi altri della primavera del Pescara tanti ancora i giocatori in esubero sul fronte San Nicolò arriva l'esterno Tersini lasciamo la città il quotidiano della provincia di Teramo prima di vedere il centro del messaggero diamo un rapido sguardo alle prime pagine dei quotidiani sportivi visto che abbiamo introdotto il discorso sport qui siamo sulla Gazzetta la Juve batte un colpo oggi chiude per D'Agras Costa poi andrà su Bernardeschi il Bayern apre al prestito con obbligo di riscatto del brasiliano che in 48 ore potrebbe essere a Torino salta il vertice con la Fiorentina ma c'è ottimismo poi sotto la testata To Cassano Antonio firma a Verona giocherà anche con Cerci Lella si scatena ingaggia per un anno il barese raggiunge l'accordo per l'esterno e per Ertò e poi di spalla Milan primo test senti Rodriguez qui c'è Amore alle 19 amichevole col Lugano Aubameyang si decide Gigio torna dalle vacanze clausola 70 milioni e poi ancora tra Roma e Raggio a grande freddo l'Inter ci spera i nerazzurri insistono per Dalbert e poi leggiamo in basso a Wimbledon sfida infinita contro Müller Nadal è fuori il lussemburghese dopo 4 ore e 48 minuti elimina Rafa 15-13 al quinto set come 12 anni fa poi come fila il Toro di Belotti e Cairo chiama l'Europa folla alla raduno nel nuovo impianto vediamo la prima pagina del Corriere dello Sport Inter da Matic i nerazzurri irrompono nella corsa al talento del Chelsea il centrocampista era stato promesso allo United ma lo sgarbo Lukaku ha fatto saltare tutto Sabatini si inserisce nella trattativa i Blues chiedono 40 milioni alternative Enzonzi e Vecino e poi sotto la testata Juve Cesni l'Arsenal dice sì anche Douglas Costa è un passo da Allegri Cassi Cialanoglu scopriamo il Milan testa Lugano ore 19 con Musacchio in difesa in basso sorpresa Cassano festeggia 35 anni e torna in campo con il Verona la svolta preziosi vende il Genoa manca la firma rivelerò presto il nome ormai voglio fare solo lo spettatore poi altri richiami mondiale quella coppa alzata al cielo da Zoff 11 luglio 82 35 anni fa l'Italia batteva la Germania al Bernabeu tennis Wimbledon Nadal si arrende dopo 4 ore 48 e poi per la Formula 1 così Vettel l'implacabile costruisce il sogno mondiale la prima pagina di Tutto Sport ecco qui Toro il raduno Sinisa portaci in Europa Juve eccolo Marotta oggi a Monaco di Baviera per definire l'acquisto di Douglas Costa poi Scesni e Bernardeschi quindi alcuni richiami Milan oggi Montella lo svela in campo 5 novità Verona Cassano Concerci robe da Pazzo riferimento a Pazzini Genoa preziosi ho venduto in settimana le firme e poi come eravamo l'11 luglio 1899 nasce la Fiat e l'Italia scopre l'automobile Magni dall'1 all'11 l'unico che le vestì tutte lasciamo i quotidiani sportivi nazionali adesso torniamo sui quotidiani locali ripartiamo dal centro il Pescara al via Zeman è carico proveremo a divertirci il Boemo trova un neo rosa da sfoltire mica facciamo il calcio fiorentino primo giorno di ritiro dei biancazzurri a Rivi Sondoli il tecnico punge preparazione dura con me non è mai morto nessuno e poi ancora abbiamo preso giovani di talento ma devono dimostrarlo sul campo da parte mia nessun veto alle cessioni voglio soltanto gente motivata poi di spalla i annascoli ottiene dal tribunale una ispezione amministrativa in basso sul fronte mercato piace il portiere Perina del Cosenza sulla fascia ci sono tante opzioni e poi ancora vediamo sul messaggero Abruzzo gli articoli sul Pescara ecco qui obiettivo primi 5 posti mister Zeman traccia il campionato del Pescara in occasione della raduna effettuata a Rivi Sondoli vorrei lavorare con un gruppo meno numeroso però la società è stata brava a individuare buoni elementi Sebastiani in settimana ci saranno novità sull'organico e poi sul fronte dello staff tecnico dalla Roma Nanni preparatore dei portieri poi tornando alle parole di Zeman non è detto che se veniamo dalla Serie A il risultato è di diritto bisognerà lottare sul fronte mercato Cancellotti e Golubovic due obiettivi per le fasce Pigliacelli non sarà ceduto a Lavellino anche Campagnaro destinato a restare un anno e allora vediamo cosa ha detto ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani dopo la conferenza stampa che ha di fatto aperto il ritiro la prima parte del ritiro del Pescara che si svolge a Rivisondoli poi ci sarà la seconda parte a Palena Sebastiani Presidente Sebastiani si riparte si riparte in ritiro a Rivisondoli con quasi 40 giocatori ha detto Zeman in conferenza stampa sono oggettivamente troppi ma una parte la porterò a giocare con me purtroppo siamo 38-39 giocatori compresi tre portieri qualcuno non c'è quindi faremo un po' di meno ma c'è il problema nel mercato il mercato su certi giocatori soprattutto sui giocatori giovani si muove sempre all'ultimo soprattutto su quelli che hanno un mercato importante tutti quanti cercano di è brutto il termine ma di tirarti il collo sui prezzi e quindi c'è bisogno di tempo il tempo che noi abbiamo e nel frattempo scusate il gioco di parole il mister li vedrà tutti e si farà anche un'idea di quelli che sono per il progetto tecnico suo e quelli che magari non ne faranno parte Zeman vi ha chiesto un ulteriore sacrificio nelle ultime ore è arrivato un nuovo preparatore dei portieri Guido Nanni ma non è un sacrificio lui ha voluto un uomo suo io sinceramente non è che non si tratti di accontentarlo non accontentarlo normalmente soprattutto Zeman ha uno staff talmente ristretto che negargli la possibilità di portarsi un uomo suo veramente sarebbe troppo mi spiace perché devo dire che noi abbiamo Gabriele Aldegani al quale io sono personalmente molto legato ed è stato un ragazzo che a Pescara è stato per tre anni con grande professionalità e mi auguro che possa rimanere con noi per cominciare un progetto diverso che magari quest'anno riguarderà il settore giovanile e soprattutto la primavera e poi lo porterà in futuro ad essere il preparatore dei portieri del Pescara perché è un ragazzo che merita tutto quello che sto dicendo Zeman in conferenza stampa poco fa si è detto soddisfatto di quello che ha fatto la società sul mercato fino ad oggi portare a Pescara Ganze riportare a Pescara Cappelluzzo non dimenticando di avere in rosa ancora Andrea Cocco che a ottobre sarà a disposizione del mister e poi non dimentichiamo che là davanti abbiamo gente come Nicastro che rientra abbiamo Polidori da vedere abbiamo il giovane del sole abbiamo Mitrita abbiamo tanti ragazzi lì davanti forse dimentico qualcuno però abbiamo veramente una bella scelta lì davanti oltre ai due dell'Atalanta che sono appena arrivati se manca qualcosa lo sapremo strada facendo con quello che uscirà fuori da questi primi giorni di preparazione il tifoso lo riconquisti sul campo lottando dando soddisfazioni con i risultati poi vedete gli aspetti personali contano fino a un certo punto perché per me è importante che la squadra si giochi bene faccia divertire la gente e che la gente si innamori della squadra torniamo sul centro ancora con le pagine dello sport siamo alle ultime battute della nostra rassegna Lega Pro il Teramo insiste per Alimi e Mazzocchi dell'Atalanta ufficializzati l'arrivo del terzino Ventola dal Pescara e la partenza del laterale di Paolo Antonio alla Ternana e poi ci sono delle notizie intorno all'articolo centrale parlando soprattutto di direttanti Serie D la vastese su Cristaldi Avezzano Rullo la firma ecco qui Erminio Rullo con ai tempi la maglia del Lecce con cui ha giocato anche in Serie A lo scorso anno invece era all'Agnonese in Serie D novità a Penne in eccellenza arriva Serraiocco che era dato vicino all'acquisto del Francavilla invece va a Penne via Pilone Savini e Mergiotti e poi ancora in eccellenza Bolzano a Capistrello di Santo verso San Salvo calcio a 5 Pescara Mentasti e sì Acqua e Sapone su Araugio e poi tanto Abruzzo nell'Italdonne e gli europei di Criscio Tucceri Cimini e Sabatino tra le azzurre di Cabrini in campo lunedì contro la Russia e per il basket palacanestro mondiale over 50 la leggenda di Capone io campione a 52 anni il playguardia teatino ancora protagonista sul parquet a Montechatini con Boni e Stama altri giocatori noti molto noti al pubblico abruzzese dopo i 5.000 punti messi a segno in Serie A una vita per il canestro conquista il settimo titolo over 4 europei e 3 iridati continua a giocare perché rivivere le emozioni di un tempo non a prezzo mi occupo di mini basket la mia esperienza a quanto pare non interessa a nessuno e poi ancora tiro con l'arco gli assoluti a Lanciano Sambuceto Archeri campione regionale la squadra del tecnico Favata conquista il titolo outdoor 70 metri round in evidenza Maurizio Di Nicola Biancone Di Cindio Maranzano e Mattiucci in taglio medio domenica il Matteotti parliamo di ciclismo domenica il Matteotti con la nazionale i risultati degli abruzzesi ai campionati allievi e giovanissimi su strada rapidamente tornando al messaggero Lega Pro Teramo su De Grazia attende il sì di Chinellato l'Aquila per ora Chiodi effettuerà l'iscrizione oggi incontro tra le parti per definire i passaggi societari per il basket di A2 May saluta gli Sharks volevo restare a centropagina Alona e Stavros bellezza Interamnia sono i due atleti partecipanti proclamati vincitori una ragazza tunisina non ha voluto partecipare in costume oggi giornata conclusiva della manifestazione che però avrà bisogno di riorganizzarsi poi anche sul messaggero si parla di Ribaltone a Penne per il campionato di eccellenza Bomber Molino a Martinsicuro calcio a 5 Pescara arriva Mentasti sarà un jolly per coach Colini e poi sempre per la serie di Camerlengo e Stivaletta i rinforzi della Vastese finisce qui l'edizione odierna di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti informativi con i nostri notiziari i TG6 delle ore 14 delle ore 19 e delle ore 23 ringrazio in regia Silvia Gentile e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata a a a a a a a a a Grazie a tutti.